oristano siamo in viale leonardo tatti ovvero dove era a questo punto ospitata all'area camper un'area camper che è dismessa e transennata da ormai più di un mese e non è più utilizzabile insomma un disservizio importante considerato anche che in città non ce ne sono altre dopo che era stata dismessa anche quella della zona di sarrudia del vecchio palazzetto quindi insomma i camperisti che transitavano per la zona centro occidentale della sardegna si fermavano nell'area camper qui di via tatti e così da più di un mese dicevamo non funziona lo scarico e quindi come possiamo vedere è transennata le aree camper più vicine ad oristano sono quella di puzzuidu che tra l'altro dovrebbe essere anche quella inutilizzabile da qualche giorno e addirittura a marrubio